Sì, che c'è tutta sta zona con i frati. Io lo chiamerei quartiere frati. Eh ma Mariana, ma che c'è una testa? Che c'è una testa? Veramente, sei un genio. Io non mi rendo conto, ma io non mi rendo conto perché testo che c'è. Non potranno mancare neppure gli amici del San Costanzo Show, che quest'anno in due date naturalmente avranno il loro spazio, il loro momento, uno dedicato ad uno spettacolo e l'altro invece dedicato ad un film, di cui insomma tra poco vi parlerà. E cosa vuoi parlare oggi? No, ci siete voi, no? Sì, Alena BCC, sia luglio che agosto. Si stiamo dicendo le date, dopo dopo la gente non capisce. Lui non c'è, quello che cantava adesso non c'è, è un distributore così. Ma grandi personaggi del San Costanzo Show ci saranno tutti quanti i famosi, diciamo la signora Orietta Pedotti, la signora Rosa della Cecca, le signore Pesaresi, ci sono tutti quanti i grandi personaggi da Civitanova a tutte le marche rappresentate nel nostro grande show. Sia lo spettacolo teatrale, cavalli anzi somari di battaglia, sia luglio che agosto, ma anche il nostro film. Non aprite quella sporta, sia luglio che agosto. San Costanzo Show da non perdere! Chiudi, chiudi, perché sei facendo tenere così!